Si è concluso dopo tre anni il progetto Art for All, che ha visto coinvolte scuole di varie città europee nella realizzazione di opere ispirate a grandi monumenti del territorio, per renderle accessibili a tutti grazie a rappresentazioni in 3D, libretti con attività ludiche e promozione dei musei in giro per la città con il Pop-Up Museum, in cui i ragazzi del liceo Mengaroni hanno cercato di incoraggiare i cittadini ad interessarsi all'arte, trovando anche chi, grazie a loro, ha prenotato subito una visita in uno dei tanti musei pesaresi. Art for All è un progetto Erasmus Plus di partenariato scolastico che coinvolge il liceo Mengaroni come scuola coordinatrice e ideatrice del progetto e hanno collaborato negli ultimi tre anni scolastici scuole da altri tre paesi europei, il Portogallo, Caldastera e Ina, Ostende in Belgio e Sofia in Bulgaria. Oggi siamo qua con una rappresentanza di insegnanti e studenti delle quattro scuole partner, che hanno effettuato una settimana di mobilità qui da noi, ospiti del liceo Mengaroni, per arrivare alla conclusione del progetto. Tematica principale del nostro progetto è quella dell'inclusività e dell'accessibilità del patrimonio culturale. I ragazzi qui a Pesaro hanno lavorato su due opere fondamentali del patrimonio pesarese, che sono la pala d'altare del Bellini e la medusa del Mengaroni, perché un po' rappresenta la nostra scuola. Sì, è un progetto europeo, quindi un Erasmus Art for All, un approccio inclusivo alla fruizione del patrimonio culturale e alle bellezze. Quindi ogni paese ha analizzato opere d'arte diverse, ma sotto il profilo di accessibilità all'opera, di fruibilità dell'opera. Cioè i ragazzi hanno ragionato insieme, attraverso laboratori, attraverso esperienze, mobilità, incontri, dialogo, confronto, su quello che può rendere maggiormente fruibile e accessibile il monumento, il museo, l'opera d'arte. Sono state unite, hanno dialogato quelle che sono state le esperienze di ogni paese, di ogni città. E dagli stimoli che sono pervenuti dai vari ragazzi, dai vari studenti, si è creata una proposta da formulare poi anche al Comune di Pesaro per rendere più fruibile quello che sono i nostri, per esempio, musei. Hanno svolto tutta una serie di attività di studio, di indagine durante l'implementazione progettuale e poi hanno voluto inventare, proporre e creare degli ausili di accessibilità che verranno nelle prossime settimane donati, resi accessibili, proprio presso i mesi ai cibici di Pesaro. E così hanno fatto i nostri partner nei loro paesi europei. Hanno inventato, creato dei modi anche per coinvolgere più persone ad apprezzare, a vivere e a creare insieme l'arte. Perché tutti devono poter godere e fruire del patrimonio nel rispetto di quelle che sono le specificità e le abilità e le potenzialità di ognuno di noi. Ogni scuola ha cercato di aprire le porte dell'arte ad ogni forma di inclusione sociale. Da progetti rivolti ai bambini e ai non nativi della città, al racconto delle storie dei monumenti attraverso la lingua dei segni per non udenti e infine i ragazzi del liceo Mengaroni che hanno permesso di far apprezzare i patrimoni artistici locali tramite l'utilizzo di una stampante in 3D anche a persone con disabilità visive. Posso dire che consiste nella speranza di un futuro. Perché, come ho detto ai ragazzi, loro veramente ci possono far sperare in un futuro di accessibilità e di inclusione. Perché comunque noi fino ad oggi, e parlo della mia generazione, della nostra generazione, non ci siamo occupati, forse non abbiamo capito l'importanza, forse venivamo da altre esperienze. E quindi non abbiamo costruito una comunità accessibile a tutti. Invece un progetto come Art4All, dove i ragazzi si stanno impegnando, dove i ragazzi hanno trovato strategie di inclusione vera, io dico che è veramente il futuro che ci fa sperare in una comunità inclusiva e soprattutto accessibile veramente a tutti.